Su iniziativa del Rettore dell'Unite, Dino Mastro Cola, sabato 26 marzo alle ore 10 si terrà a Teramo una marcia per la pace a sostegno dell'Ucraina. Il corteo partirà dal centro di Teramo per raggiungere il campus universitario e concludersi con il rientro in città. Iniziativa è promossa dalle quattro università abruzzesi, dall'Istituto di Fisica Nucleare del Gran Sasso, dall'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo del Molise, dall'Osservatorio Astronomico di Coll'Uranio e dai Conservatori Musicali di Teramo, L'Aquila e Pescara. La marcia è organizzata anche in collaborazione con Teramo Città Universitaria. Sarà un momento istituzionale molto molto importante per ribadire che il percorso della pace non può che passare attraverso la cultura, la formazione e la scienza. Quindi solo formando cittadini consapevoli e ben preparati possiamo pensare ad un futuro di pace. Quindi ci sarà questo percorso articolato dal centro città, quindi ancora grazie al sindaco. Arriveremo a Colleparco. A Colleparco ci sarà un momento di formazione, quindi saranno delle lezioni pillole da parte di colleghi delle università e molto probabilmente riusciremo ad avere una collega ucraina e una collega russa, quindi due docenti che ci dimostreranno che la cultura mette insieme solo la guerra di vita.